Sì, innanzitutto sottoscrivo quello che abbiamo detto adesso Davide a proposito dell'ammirazione per l'artista e anche per la persona, per, diciamo, la testimonia dell'intelligenza e del coraggio e della libertà. Quindi, insomma, è un'ammirazione dubbia. E poi non c'è dubbio avere avuto la femminilezione di assistere così da vicino e stare a gomito, gomito, gomito e non a camper, appiccicati con la mia tutta e vedere la grazia, l'intelligenza, ma il talento fenomenale per gestire ogni singola battuta, ogni momento, ogni sguardo, il coraggio di affrontare la luce di Luca Piazzini, che è un po' crudeno, con gli attori, nel senso che mostrava anche la fragilità dei corpi, quindi non era certo lì a preoccuparsi, come vengo, sono carina, c'ho una bella luce, anzi, Non so, ti ho dato una pregatura, ho detto, fai tu una prima domanda. No, la domanda è la prima domanda. Noi ci siamo fatti una promessa lì in sera con Ele. Ci siamo detti, ci siamo detti, raccontiamo un po' di segreti, raccontiamo un po' di verità, di quello che è successo, come abbiamo lavorato insieme, e di fare anche una specie di coming out, di, come come, to speak up the truth about our trip, about our road trip. Well, the first thing I thought that was interesting was that you wanted to do it in sequence. We didn't, as you, I'm sure you all know, normally a film is shot out of sequence. You shoot the last scene first, and then you shoot the first scene last, and everything in between is all mixed up. But you decided to shoot this film literally in sequence. So, with a few exceptions, we shot the film as we were making the journey, which was the first time I've ever experienced that. La prima cosa interessante da dire è che tu Paolo hai deciso di girare il film in sequenza sostanzialmente cronologica. Quando noi, quando si gira un film, spesso magari si inizia a girare l'ultima scena e poi la prima e poi tutto il resto nel mezzo. Invece, per la prima volta, perché non mi era mai capitato, tu hai deciso di girare il film in sequenza. Quindi, sostanzialmente, il film si è formato mentre noi avevamo deciso di intraprendere questo viaggio. Il viaggio e il film sono andati di pari passo e, appunto, questa per me era una cosa in me, di dare la prima volta. Quindi, stiamo facendo la prima volta, Paolo. La prima volta, Paolo, 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 Paolo. La prima volta, Paolo, Paolo, Harder急, è arrivata un antichoreAllanti, poi e avanti fino alla fine in riag Surve Cantonese. Allico che non avevo mai avuto il tempo che Donald Trump era l'estate del 2016, l'America stava bruciando Yes, and he was running for president, so it was an extraordinary moment in American history, and Paolo, as an Italian I think, was observing this with a sort of curiosity and a fascination, and you put in the scene Yes, we wanted to do something like this in the frame So I'll wait for the translation Thank you Of course we're going to talk with you Thank you E appunto abbiamo intrapreso questo viaggio insieme, credo che la prima scena era proprio nella casa di Helen John, che doveva essere, diciamo, un film in Massachusetts, ma in realtà eravamo ad Atlanta Poi ci siamo mossi, ci siamo spostati fino a Key West e durante questo viaggio abbiamo scoperto e ci siamo fermati in diverse aree di campeggio E allora ho scoperto un mondo, il mondo del campeggio e delle aree di campeggio americane, che per quanto insomma mi riguarda non conoscevo affatto Era poi un periodo molto particolare per la politica americana, nell'estate del 2016 Donald Trump si era candidato alla presidenza, quindi un momento di particolare cambiamento E Paolo, diciamo in quanto italiano, era un attimo nelle retrovie, osservava con curiosità e affascinazione quello che stava accadendo Poi abbiamo deciso anche di mettere un riferimento all'interno del stigma Grazie 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 Grazie